e con questa vi saluto, vi ringrazio, vi abbraccio questo è fantastico, questo concerto è dedicato a tutti voi che ci siete ancora, che siete vivi spirito in piano per non far rumore, per non vedere se il verde col sole si chiama come un'alba, anche labiesking siamo pure in aria perché lascia seguireinkう in mano e sei fantastica quando sei assordata Grazie a tutti 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 Grazie a tutti